Come avrete detto dal titolo oggi andremo a parlare di un argomento ossia il remake di quarta generazione che mi è personalmente molto caro in quanto Sinnoh è stata diciamo la regione che culò i primi anni della mia esperienza con il mondo pokemon ebbene giocando a pokemon sole e pokemon luna e a dirla tutta incappando anche in qualche spoiler di troppo ho scoperto che questi giochi sono pieni di riferimenti alla quarta generazione ci troviamo ancora una volta ad akala e come nel video su gold la città nella quale possiamo trovare questi rimandi alla generazione di palchi e di alga è kantai difatti nel centro ricerche interdimensionali raggiungibile dopo aver sconfitto il pokemon dominante lurantis nella prova di ibis possiamo trovare dei documenti alquanto interessanti si parla delle descrizioni di tre pokemon in particolare giratina palchia e bronzong tutti e tre sembrano correlati in un qualche modo a delle dimensioni parallele proprio come le ultra creature piccola osservazione se le ultra creature sono pokemon provenienti da altre dimensioni allora anche questi tre pokemon insieme a molti altri potrebbero essere classificati come tali ditemi cosa ne pensate di questa affermazione nei commenti in ogni caso ovviamente i riferimenti non finiscono qui infatti un npc nei pressi dello stadio royal ci parlerà di omar il distruttore nonché campo palestra di pratopoli città situata proprio a sinno ed infine cosa forse più interessante e più indicativa in un edificio controllato dalla fondazione eder possiamo trovare documenti che in pokemon diamante perla erano presenti alla libreria di canalipoli sappiamo che questi sono stati oggetto di speculazioni per quanto riguarda varie teorie su pokemon sole e pokemon luna e sulle ultra creature e ciò potrebbe confermare il fatto che alola e sinno possiedono in realtà un collegamento che potrebbe spingerci ad ipotizzare un eventuale remake della quarta generazione non dimentichiamoci che sylvalli pokemon di settima generazione nonché evoluzione di tipo 0 ha in un certo senso la capacità di arceus di cambiare tipo a seconda dello strumento che possiede e che comunque game freak nei giochi non lascia quasi mai nulla al caso abbiamo più volte visto infatti come alcuni riferimenti a generazioni precedenti abbiano poi preannunciato dei remake o anche semplici comparse nei giochi successivi o che in alcuni giochi alcune cose che parevano ad un certo modo di vedere diciamo inutili si sono poi rivelate importanti per i giochi che sarebbero usciti in seguito basti pensare a ciò che avvenne con i riferimenti ai pianeti al sole e alla luna che abbiamo visto in pokemon x e y che inizialmente sembravano non dirci nulla e che invece stavano ad annunciare l'uscita della tanto attesa settima generazione detto ciò il video finisce qua io spero che vi sia piaciuto se così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto mi raccomando passate ai social in descrizione e scrivete nei commenti tutto ciò che pensate su questa teoria su cosa potrebbe appoggiarla e su cosa invece potrebbe confutarla quindi lasciate un mi piace commentate iscrivetevi e noi ci becchiamo in un prossimo video